Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come promesso sono riuscita a portarvi il gameplay su Marvel's Spider-Man per PS4. Premetto che non ci gioco da tantissimo quindi non fate caso se sbaglio, non fateci caso, fate finta di non aver visto, al massimo taglierò alcuni pezzi. Inoltre per chi non avesse visto o comunque non avesse sentito la notizia, anche se mi sembra difficile, insieme alla PS5 verrà rilasciato anche il gioco di Marvel's Spider-Man che vede come protagonista Miles Morales. Infatti si chiama Marvel's Spider-Man Miles Morales. E adesso iniziamo il gameplay, sperando vi piaccia. Io odoro tantissimo questa soundtrack, è meravigliosa. Che poi la versione, diciamo, il protagonista nel gioco ha alcuni tratti che riprendono un po' tutti e tre gli Spider-Man cinematografici ed è bellissimo secondo me. Un esempio palese sono gli occhi. Qua ci sono i sinistri sei. Minaccia a livello Avengers. Questa sono io la mattina. Spero non mi diano il copyright. Uno, due, tre. Poi l'oscillazione riprende tantissimo The Amazing Spider-Man. Ok, mi devo ricordare un po' come si gioca. Ok, sembra che io non ci abbia mai giocato, però non ci fate caso. Mi raccomando, fate finta di non averlo visto. Tanto sono sicura che taglierò un sacco di parti di questo scempio. Io che esco poi dalla missione, non fateci caso. Voi non avete visto niente. Sembra che io non ci abbia mai giocato. Pronto? Perché è questo che fanno gli eroi. Yuri ha chiamato la cavalleria. Eccolo qui. Le animazioni di questo gioco sono meravigliose. Tanto sono rinforzi! 10.32, Times Square, agenti sottotiro. Ora tocca a te. Ora tocca a te. Lui che ovviamente non si accorge di nulla. Anche i combattimenti sono fighissimi. Ti avverto, oggi sono in vena di pugni. Sono in spalle! Avanti il prossimo. Qualcuno rispari! Accidenti, Fisk dà lavoro a parecchi aggetti. Accidenti, Fisk dà lavoro a parecchi aggetti. Una cacca. Per Yuri ovviamente non si intende il figlio di Albano. Sì, lo so, faccio battute squallide. Però mi dovete sopportare, mi dispiace. Perdona. Comunque voglio sapere cosa ne pensate se avete mai giocato a Marvel's Spider-Man. Quindi lasciate un commento e fatemi sapere. Eh... Sì. Sì. Inviate rinforzi e bloccate il traffico aereo. Ah niente, è bellissimo. Mi spiace deluderti amico, ma tu non farai un bel niente. Cosa ci fa qui Spiderman? È un super eroe, vedo un po' lei. Ok. Comunque se non parlo tanto è perché preferisco concentrarmi sul gioco e poi per non disturbare la visione a voi. Quello protetto! Avresti dovuto sfidare qui. È toccata la tua ora! Oh la la! Wow! Mi ricordo come si fa. Sono pronto! Stai zitto una buona volta! Appena scenditi al lancio! Direi che sono pieno. Speriamo. Via! Via! Ascensori bloccati! Per le scale! Preferisco un approccio diretto. Spiderman, novità? Novità? Mi dirigo ai piani alti, sperando che nessuno riattivigliace il sole. Stanno sparando agli elicotteri. Temo che Fisca abbia uomini armati su ogni piano. È disperato. E ci attacca con tutto quello che ha. Devo trovarlo e fermarlo. Non ancora. Abbiamo intercettato una chiamata. Stanno cancellando i dati sui server. Quelle prove ci servono se vogliamo tenerlo dietro le sbarre. Un film di supereroi? Mi sembra lecito. Dove vai, zio? Dove vai, zio? Eccoli io. Nemmeno lo caricate sempre tu. Magari spari. Cioè, prova. Quello che dice la prof quando ti fa una domanda agli esami e tu non rispondi. Devo trovare la sala server prima che cancellino le prove. Se entrassi da qui distruggerebbero le prove. Devo trovare un accesso sicuramente. Il senso di ragno. Che cosa fighissima. Anche nel gioco per PS3 c'era. Era il gioco di Spider-Man 3. Fisk sarà anche uno sporco criminale. Ma i suoi condotti sono piuttosto puliti. Non posso fare più veloce. Che teleri quando sognari. Come andiamo? Siamo a metà. Ancora un minuto o due. La polizia attacca. Siamo qui. Siete l'assistenza? Ho scordato la password. Lontano dal pannello. Torna giù se hai coraggio. Fermatelo. Attenzione. Eliminazione completa e pennezza. Fermatelo, il sistema non è ancora pulito. Più maleducati dei miei ex colleghi informatici. È ora di finirlo. Devo accedere al pannello prima che cancellino tutto. Proviamo i loro sistemi di sicurezza. Avete dimenticato di aggiornare il kernel? Nascondersi tra i serbi. Eccolo. E taccolarti. Persino per te. Disse quello che sta cancellando la sua cronologia. Dopo tutti questi anni sei rimasto sempre il solito moccioso ignorante. Vero, ma fa parte del mio fascino. È un misto tra Majin Bu e il tizio di Cattivissimo Me. Sì, ci può stare, mi sembra lecito. Senza di me. La pezza che tengo al Quintaglio finirà fuori controllo. E la colpa ricadrà su di te. È stato un lungo viaggio, Fisk. È quasi triste che sia finito. È solo il prelucchio. Beh, preparati per il momento più. Ecco a noi, viva o morto. E vissi lo stesso. Yuri, un'esplosione ha... Ho visto. Fisk potrebbe aver minato l'edificio. Chiamo gli artificieri. Aprirò loro la strada. Prima devo capire che devo fare. Allora... Mamma mia, non me lo ricordo più come si gioca. Beccati questa. Boom. Via libera, avanti! Ehi, ragazzi. Le bombe fanno parte del piano di fuga. Sembrano intrappolati. Tu pensa a loro. Noi cerchiamo le bombe. Non è un gioco di Spider-Man se non devi salvare gente da un edificio che prende fuoco. Già. A meno che non sia un riferimento allo Spider-Man 3 per PS3. Mi sembra ce ne siano parecchi. Spider-Man! Devi aiutarci! Siamo bloccati! Lo sollevo. Uscite in fretta. Se potete camminare aiutate i feriti. Ok? Sì. Ok. Questa scena sembra quella di... Spider-Man on come. Contro al bottone. Via! Via! Forza! Grazie! Ce l'ha fatta! Andiamo! Ok, Willy. Sto arrivando. Spider-Man. Qui, Yuri. Come va, Capitano? Potrebbe andare meglio. Gli elicotteri sono danneggiati. Atena ha atterrato l'ultimo. Se vi scacchiamo un elicottero non possiamo impedirgli di atterrare. E' nessuno che lo possa inseguire. Perché ho il sospetto che avesse calcolato tutto? Perchè probabilmente è così. Diamine! Yuri! Fai salire i medici! Ora! Ci proviamo! Perchè sembra Neymar? Attenti! Evciso Neymar. Altri missili? Mi sembra un filo eccessivo, no? Beccati star da niente, yeah Cover Cos'è? La giornata nazionale dei missili? Regato Possibile che gli artificieri siano passati da qui Non spingete, ne ho abbastanza per tutti Ricordo che si poteva fare una cosa sul muro Ah ecco, spunta, aspetta Ok Ok Fighissimo Fighissimo Quindi voi le cavate le chiappe a pesce? Oh, non riuscirò più a togliermi l'immagine dalla testa Prendiamolo Ammazziamolo Peccato che il vostro piano sia fallito Ma avete un piano B, farvi prendere a calci Boom, boom, ciao Citazioni di un certo livello Boom, boom Ciao Wow Ehi, Yuri Alcuni dei tuoi uomini erano pagati da Fisk Per fortuna erano l'ultimo baluardo di Willy Sono fuori dal suo ufficio Prendilo Ora Con Piazzi Scrivi le tue memorie? Non dimenticare il trattino tra Spider e Man Che vorrei ricordare Arrivo subito Sta lì ammesso per differenziarlo da Superman In modo tale che la gente non si confondesse Sono sorpreso di incontrarti Ma il tuo teatrino Finisce qui Sai che riesco ancora a vederti, vero? Otto anni della tua insolenza Ok, non mi ricordo Cosa devo fare Ok 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 Dove li hai lasciati i Minions? È brutto fare battute E non sentire nessuno carrito Quindi non so nemmeno se riderete Quello dettaglio Facciamo la finita Non ho altra scelta Giochi col fuoco ragazzino Col fuoco no Con la carne sì Forse è più grasso che carne Tu incarni tutto il male di questa città Stavo per dire lo stesso di te Sapete cosa fare Abbasso Ragazzi è l'aperto Siete addestrati per compasso È troppo veloce Non cosa vi pago a fare No So difendermi da solo La tua morte sarà inutile come la tua vita Fade il tuo peggio Che imbecilli Dobbiamo tenermi a terra Boom Brava sono i rinforzi No 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 In questo modo è finito. Combattimenti che il drago bolleva tu. Ora si baciano? Allora, dovremmo baciarci? Ecco. Magari dopo, eh? Detto questo, concludiamo in questo modo il primo episodio. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e commentate. Soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco. Finalmente vai a Riker, eh? Mi sa che lì dentro hai anche più nemici di me. Non illuderti che sia più di una breve parentesi. Ops, devo andare. Ehi, buona fortuna, Willy. Ho l'impressione che ti servirà. Idiota! Sono io ad assicurare l'ordine in città! Ciao ragazzi, e alla prossima! Un saluto wakandiano a tutti voi! revolta. Sono io adersi. Fun... El entrégato!